Tutti per uno, uno per tutti! Ah, Vinello, ah, re della mezza porzione, ah, tempi già vissuti, la miseria ci riavvolge di nuovo tutti nei suoi paterni tentacoli, è già no? Rinasco, 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 del 1950, Gozzano. Eccolo. Magari, re della mezza, me sa che manco le pagamo. E sai che novità? Te ci sei fatto ricco con noi, ha ripulito tutto il locale. Non si sa aspettare i soldi vostri. E se la mezza, lo sai che in una società è voluta mangiare torre e peste e granito per tutti? C'è anche Margherita, vedi a calla. Margherita! Aspetta ancora la telefonata di Michele. Eh, però mancano antiche e sparute presenze. Dove è infatti il suonatore di trombetta? Dove l'implacabile forzitore di accendimento? Qual è? Mi interessa l'oggetto o il disegnatore di madonna? O il vittore di miliardi? La simpatica pattona con una gamba solo all'arco di redone va a ricordare. Per frate, coi sattini, cinque lire ti devo ancora. Sicure che scombagliono. Ah bravo, dammi quattro spigli. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.